Per noi trovare una occupazione di qualità per i nostri laureati è una delle missioni principali. Abbiamo una rete estremamente importante di aziende presso le quali svolgiamo tirocini e stage e questo garantisce ai nostri laureati una percentuale di successo nel mondo del lavoro che supera l'85%. Nell'ultimo Carer Day abbiamo avuto 160 imprese, 5.000 colloqui e tantissimi nostri giovani hanno trovato una occupazione estremamente qualificata. Iscriversi alla Federico II significa avere un'opportunità reale nel mondo del lavoro. Oggi noi stiamo cercando di sviluppare delle forme di reclutamento ancora migliore per i nostri giovani. Abbiamo messo in campo un sistema di academy con tante multinazionali che garantiscono formazione di qualità tutta gratuita e collocazione certa nel mondo del lavoro. Essere insieme a noi, entrare nella nostra comunità, formarsi presso la Federico II è un modo per entrare nel futuro ed avere delle opportunità che oggi vengono offerte dalle nuove tecnologie e da un mondo che cambia sempre più rapidamente. Grazie a tutti! Grazie a tutti